In occasione della solennità dell'indulgenza della porziuncola, la diocesi di Assisino, c'era Umbra Gualdotadino, organizza, martedì 1 agosto, il perdono degli assisani, antica tradizione che prevede il pellegrinaggio a piedi, dal centro della città fino a Santa Maria degli Angeli. Questo metterci fisicamente in cammino, sottolinea il vescovo diocesano, Monsignor Domenico Sorrentino, ci offre uno stimolo e un incoraggiamento per guardare oltre, per uscire da una crisi globale, dalle molte dimensioni. Il ritrovo è fissato per le 5.30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del comune ad Assisi. Da lì si passerà per l'antica via Mattonata, dove chi è impossibilitato a fare tutto il percorso si potrà unire al cammino. Alle 7 ci sarà la Santa Messa preseduta dal vescovo della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Alle 11 il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di apertura del perdono. Alle 19 i primi vespri saranno presieduti dal vescovo Sorrentino. Seguirà l'offerta dell'incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale alle 21.30 sarà guidata da padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della provincia Picena. Mercoledì 2 agosto sarà possibile partecipare alle numerose celebrazioni eucaristiche previste per le ore 7, 8 e 30, 10, 11 e 30, 16 e 30, 18. Per tutto il programma delle celebrazioni è possibile consultare il sito della diocesi www.diocesiassisi.it www.diocesiassisi.it www.diocesiassisi.it